Si sono calmo cazzo Oh mio dio cazzo Che cazzo sei tu Porco oh mio dio che culo Questo si chiama culo Questo si chiama mazzolo Ah non mi hai fuso il cervello Mi hai fuso qualcos'altro Qualcos'altro che mi stendete al canale Voglio vedere qualcos'altro io Se non ti dispiace Si vuoi vedere Oh mio dio che cazzo è quello Mamma mia scusate Oh Sei veloce te Porco il cazzo Mi sto tirando su Non sono caduto sopra di te Mamma mia Oh mio dio Si 1 2 3 Si funziona Mi servirà per sentirti quando ti fai di italini Mi farò Si mi farò Si Ma io vorrei Fare qualcos'altro Sei molto bravo Si Sono bravo E Sono bravo a fare anche qualcos'altro Oh mio dio qua ci sono delle belle fighe cazzo Ma l'abstergo entertainment ci sta lavorando da alcuni anni Si Eh a me che cazzo me ne friga Io voglio te cazzo Io voglio te cazzo Voglio belle fighe Ti voglio se le per le mie mani cazzo C'è un tablet Per cazzo c'è un tablet Il primo titolo prodotto dal team Animus Quella era solo la punta dell'albo Oh mio dio Questa si fa una belle fighe Presto presenteremo nuovi server Animus in tutti i paesi del mondo E offriranno esperienze passive Ma a me non mi so che delle esperienze passive Variante modificate della storia Ti voglio Cazzo che culo E pensiamo di aver trovato il tema perfetto per il nostro primo prodotto virtuale Pirati dei caraibi Ecco il tuo convito Porco cazzo Quello lì Questo si che è una bella figa Ha un bel culo Che fa quello Si vedi porno nel suo pc Merda è rapato Cazzo guarda una terra Merda Non si vedi porno però Oh francese I francesi sono bravi Questo è tuo Lo strumento base del lavoro Il tablet Il trasmettitore Cazzo se base Questo si serve Serve quando siamo sul letto A vedere il porno Cazzo anche te te lo vedi porno eh Mi piacciono le ragazze che si vedono porno Che cambio Sexy sexy Ah A quanto pare stiamo andando in una camera Io e te Da soli Oh mio dio Sì Pensavo che fosse uno scherzo Ma la stiamo veramente facendo Anche se è trasparente Non fa niente Oh mio dio Oh c'è piccolo Però va bene Ok E voglio qualcosa Ah Sì ho capito Ma stanza solo per me E te Sì Dai Lo voglio Cazzo Dai Ce la posso fare Merda quanto è veloce Ti faccio Ti rapi prima che ti tocco Pronto Andiamo 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 Ma qua ci sono altre persone Fa un culo Non me ne frega del boss Struzzo La stai baciando Bene grazie Conosci il nuovo acquisto Hai iniziato oggi Sì Io non sono un acquisto E non mi chiamo campione 17 Mi chiamo Edward Cazzo Coglione Ma vaffanculo Rincoglioni Ti a toccare No Non per me Oh Denti gialli Oh Non vorresti scopare Prima di me Vaffanculo Stronzo Non per me Sai Sul piano C'è il campione 17 No ma Inoltre Il piano C'è il serio Quello Qua c'è un altro ragazzo Ah Certo Fanculo Cazzo Di creare esperienze Ci sono preservativi Mi servono preservativi Cazzo Merda Quelle gambe sono di John Uno dei magneti Stai sistemando una cosa per te Non sarà sicuramente Non sarà bravo a scopare Perché Quale gambe così Ne è dubbio Rincoglione Sì Quello sì che è un monitor Tanti porno Vedrò qua Grazie Grazie mille Tutorial Mi piacciono pure Tutorial Torno dopo Per fare cos'altro Un bocchino Questo si chiama Grande schermo Per vedere porno Tante seghe Mi farà Tante 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 seghe Porca Non sa quanto Sborrerò Sborrerò Sul tavolo Poi lo farò Bere Alla ragazza Latte Scremato Non sono un campione Diciasete Coglione Primario E Edward James Sta Voce Robotica Comunque Questo ha Vestiti Sporchi Che schifo Sì lo so che sono Sistemi A posto Seconda cosa Non sono un sistema Sono un corpo umano E un coglionetto Sta gente di oggi Mamma mia Non capisce mai Una seghe Ragazzi E ragazze Sono Dynamic E Vi dico L'inizio Di tutto Assassin's Creed Black Flag 4 Cioè Assassin's Creed 4 Black Flag Ed è appena Iniziato Da qua Inizia La vera E propria Storia Di questo Gioco La vana la bella Ci sono già stato una volta Che incredibile Piacere Conoscete qualcuno? No no Cerco solo di essere amichevole Non voglio che mi scambino più per un pirata Giusto Una canaglia come voi Deve stare attenta Già E pensare che Spagna e Inghilterra due anni fa erano in guerra Ed eccomi qui A fraternizzare con gli spagnoli Perché te sono un incoglionetto sai Poi una volta ti taglia Prima o poi ti taglia la gola Ti taglia Qual è la miglior taverna in città? Devo fare un riposino O una siesta Dovrei dire Io sto andando in un pub Per incontrare dei mercanti Potrei mostrarvi la strada Bene andiamo Ciao a tutti ragazzi Alla prossima E spero che il gameplay vi sia piaciuto E se volete altri gameplay simili a questi Vi dico di Lasciare un commento E Se al contrario Non lasciate un commento Capirò Che non vi è piaciuto Quindi non lo farò Quindi ciao a tutti ragazzi Alla prossima E lasciate un commento Su come Andato il video Su se vi è piaciuto Eccetera eccetera Deve essere minimo un commento Perché Se non lasciate un commento Penserò che Non mi seguite Non Cioè non ci volete E quindi mi incazzerò E niente Ciao Alla prossima Alla prossima